Musica Sui lavori presso la strada statale 338 del Mandrolisai, tratto Oristano Simagis, regna il silenzio. Sul tavolo della procura della Repubblica di Oristano è stato recapitato un esposto. Lo ha presentato l'associazione ex esposti a mianto. Si è giunti alla sospensione dei lavori, ha affermato il presidente dell'associazione Gian Paolo Liliu, dopo il ritrovamento di materiali inerti, presumibilmente in amianto. A oggi l'opera è ancora ferma, anche a seguito del sequestro da parte della procura nel silenzio assordante di tutti. L'associazione chiede dunque ai destinatari presenti nell'esposto di rendere pubbliche tutte le iniziative svolte, ognuna per il proprio ruolo e compiti per legge, assegnati al fine di garantire i cittadini, che hanno il diritto di conoscere, che fino hanno fatto i 5 milioni di euro a costo dell'opera. Quali sono stati gli interventi di bonifica dell'aria? Di conoscere i costi del fermo cantiere? E a carico di chi sono le spese di bonifica che andrà fatta prima del rinizio dei lavori? Quanto sarà il reale costo dell'opera finale? E quanto dovranno ancora aggiungere i civili in quanto trattasi di opera finanziata con soldi pubblici? Infine, conoscere se sono state individuate responsabilità progettuali ed esecuzione dei lavori, tenuto conto che l'opera del cavalca a ferrovia si basa su una ex cava riempita di inerti, di ogni genere, in particolare amianto. Messa al sicuro la legge Omnibus, per la cui attuazione saranno necessari più di un atto amministrativo, in regione la maggioranza deve affrontare il nodo delle commissioni consigliari e del rinnovo delle presidenze che avviene a metà del percorso legislativo. Le acque sono agitate ed in particolare posizioni diverse stanno esprimendo i sardisti, l'Udc, i fratelli d'Italia, la Lega, i riformatori e Forza Italia, la forza politica che meno si agita appagata di quanto ha ottenuto. Gli altri scalpitano ad iniziare dall'Udc di Giorgio Oppi, al gruppo consigliare del quale sono approdati diversi consiglieri, mentre nei ribaltoni interni all'Assemblea di Via Roma hanno avuto modo di rafforzarsi anche il gruppo sardista e quello di Fratelli d'Italia. Va da sé che un amalgama dovrà essere pur trovato e questa due anni e mezzo dalle prossime elezioni regionali, dove il risultato porterà a chiarire l'effetto gradimento della Giunta regionale, del Presidente e delle forze politiche che lo sostengono. Sono stati riaperti i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per le aziende ospitanti del Bando Includis 2021. La nuova scavenza è fissata per le ore 13 del 19 novembre. Il Bando, a cui l'Ambito Plus di Oristano ha aderito, prevede l'attuazione di progetti di inclusione sociolaborativa a favore delle persone con disabilità. Le azioni progettuali sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Bando residenti nei 24 Comuni dell'Ambito Plus. Le manifestazioni di interesse dovranno essere indirizzate a Comune di Oristano, ente gestore dell'Ambito Plus del distretto e trasmesse al protocollo generale con posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale chiocciolapec.comune.oristano.it È stata pubblicata la gara d'appalto per l'affidamento triennale dei servizi di supporto alla famiglia. Questi ultimi comprendono attività educative a tutela dei minori, l'attività ludico aggregativo, l'acquisto dei prodotti per l'igiene di materiale di pronto soccorso, la pulizia dei locali e la fornitura di materiale di cancelleria e ludico didattico. Il valore complessivo presunto della base di gara d'appalto è stimato in 1.122.000 euro, di cui 3.000 euro non soggetti a ribasso per obblighi di sicurezza. I documenti relativi alla gara dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema Sardegna-Cat, in formato elettronico entro le 13 del 10 dicembre. La prima seduta pubblica di gara si terrà il 14 dicembre alle 11 presso l'ufficio del dirigente del settore servizi alla persona e cittadinanza, al secondo piano del Palazzo Comunale, in piazza Leonora Oristano. Risorse a disposizione per affrontare il virus, ma è divisna. Sono stati stanziati dunque 500.000 euro per il contrasto di questa patologia talmente contagiosa che colpisce i polmoni o il cervello degli ovini. Un riconoscimento importante, ma soprattutto atteso da tempo, da tutti gli elevatori della provincia d'Oristano, ha affermato il consigliere regionale Alessandro Solinas. Al pari di altre patologie che invece sono riconosciute, alcuni appartenenti allo stesso cepo virale, per questo virus non esiste ad oggi alcun tipo di profilassi e di risarcimento, ha evidenziato il consigliere regionale. Siamo soddisfatti di questo esito. Oltre sostegno economico, ci sarà finalmente la possibilità di arginare il virus, grazie all'imposizione dell'obbligo, in capo all'assessorato alla sanità, di introduzione di nuovi protocolli di prevenzione, monitoraggio e profilassi da applicare a tutta l'isola. Al via Bose lavori per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade urbane. In particolare, ha preso avvio in questi giorni il cantiere in via Alghero, a seguito dell'approvazione del progetto di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche da parte della Giunta Comunale per un importo di 140.000 euro. Gli interventi sono volti al ripristolo della pavimentazione e all'analizzazione di rampe per l'accesso ai marciapiedi delle persone diversamente abili dove attualmente mancanti. Questo intervento, ha affermato l'assessore ai lavori pubblici Federico Ledda, fa seguito alle azioni di riqualificazione del viale già messe in atto durante l'inverno e primavera 2021, che hanno visto la nuova stesura del manto stradale, la potatura delle alberature e nuove segnaletiche, con la successiva modifica e adattamento della pubblica illuminazione, fino a quel momento insufficiente e inadeguata. Ha preso il via, anche per il Comune di Terralba, la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie. Nel 2021 i nuclei familiari che partecipano al censimento sono 2.472.400 in 4.531 comuni sull'intero territorio nazionale. Il censimento, hanno fatto sapere dal Comune di Terralba, consente di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, di confrontarle con quelle del passato e degli altri paesi. Grazie all'integrazione dei dati raccolti dal censimento, attraverso due diverse rilevazioni campionarie denominate dall'Istat e areale, con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l'Istat è capace di restituire informazioni continue e tempestive rappresentative dell'intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie. Partecipare è un obbligo di legge e la violazione dell'obbligo di risposta prevede una sanzione. Sono 102 i casi registrati oggi in Sardegna. Sono stati processati in totale fra molecolari antigenici 6.388 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 52 in meno rispetto a ieri. Non si registrano decessi. Sul territorio provinciale d'Uristano sono stati rilevati 13 nuovi casi. A Uristano città si registrano 8 nuovi casi di positività al Covid-19. Si registra anche la quarantena di una classe dell'asilo BOI. È stata prorogata sino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 10 novembre, ma declassata da arancione a gialla, l'allerta meteo dinamata dalla Protezione Civile Regionale. In pagamento gli anticipi della PAC 2021, lo comunica l'assessore dell'agricoltura Gabriella Murgia. Già dai prossimi giorni l'organismo pagatore regionale provvederà al pagamento del primo blocco di domande presentate per il primo pilastro della politica agricola comune del 2021. Sono in corso di pagamento, infatti, le prime 15.000 domande per le quali non sono state rilevate anomalie bloccanti. L'importo complessivo dei pagamenti ammonta circa 60 milioni di euro. Nelle prossime settimane, comunque, entro il termine del 30 novembre stabilito dalle norme europee, precisa l'assessore Murgia, verrà completata l'istruttoria delle domande che presentano anomalie e, conseguentemente, verranno liquidati entro lo stesso termine i pagamenti degli anticipi dell'aiuto. Il responsabile del Servizio Sociale del Comune di Zediani rende noto che è aperto l'avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l'erogazione di contributi economici utilizzabili per rimborsi diretti ai cittadini delle spese sostenute o da sostenere entro il 2021 a titolo di canone di locazione o utenze domestiche, l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione in qualità di espositori alla manifestazione Artes e Savores che si terrà i giorni 4 e 5 dicembre a Sant'Ulusurgiu e il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stabilito per le ore 13 del giorno lunedì 15 novembre. Grazie a tutti.